Per l'invito che mi è stato rivolto ad essere qui questa mattina, sono naturalmente venuto molto volentieri, all'ingresso ho detto ai miei colleghi consiglieri che ringrazio per essere presenti, il sottosegretario sala, componente della nostra giunta, il presidente Romeo, il consigliere Carugo, tutti coloro che con me condividono le difficoltà della gestione di oggi per quanto riguarda la salute e devo dire che ho detto che sono mio vicino con deferenza avendo letto la storia di San Gerardo, nei suoi otto anni, nei suoi otto secoli di storia quello che è stato realizzato da questa comunità monzese, da questo bellissimo tratto di storia che dà un contributo estremamente importante alla bellezza e alla bontà della sanità lombarda. Fiatemi usare questi due termini perché io sono convinto che quello che si realizza qui a San Gerardo avendo ne letto non solo i numeri per quanto riguarda le accoglienze durante l'anno che superano addirittura i 20.000 ricoveri nell'anno scorso, i 3.500.000 prestazioni di ordine ambulatoriale, cioè sono numeri che fanno riflettere tutti per dire che se ci si avvicina a San Gerardo lo si fa per convinzione, per scelta e io sono convinto perché qui si trovano le più alte eccellenze di Regione Lombardia.